Siamo giunti alla quinta corsa, premio Sabaudo Park, doppio chilometro per gli anziani, partenza fra i nastri, il solo Loyera S che rende 20 metri a Simon Foto SM e Onnilest Royal Caff, ora Pronobis Rodriguez B e Perunometro SM. C'è lotta per il comando tra Royal Caff, ora Pronobis e Perunometro SM che però sbaglia in curva e allora resta il comando Royal Caff mentre Onnilest è rientrato ora Pronobis che si sistema terzo. A precedere Simon Foto SM quindi Perunometro SM e Loyera S, scusate il concorrente che aveva sbagliato era Rodriguez B, il quarto iniziale in 30 e mezzo con partenza da fermo quindi è buono il ritmo imposto alla corsa da Royal Caff che precede Onnilest, ora Pronobis. Simon Foto SM, Perunometro SM e Loyera S mentre replica l'errore Rodriguez B e subisce la squalifica. Sestetto in fila indiana verso il termine della seconda curva, sempre comandato da Royal Caff con Davide Di Stefano che va a completare il mezzo miglio iniziale in 1-3. Si viaggia sul piede dell'1-19 scarso per Royal Caff davanti a Onnilest, ora Pronobis, Simon Foto SM, Perunometro SM e Loyera S che accenna a muovere dalla coda del gruppo. Risale Loyera S, ha girato anche Simon Foto SM e giunge al lato di Ora Pronobis quando siamo all'apice della penultima curva e comanda sempre Royal Caff, insiste nella risalita Loyera S. Loyera S insiste e giunge al salchi del leader avendo all'interno Onnilest, quindi ora Pronobis, Simon Foto SM e Perunometro SM. Ora Loyera S preme su Royal Caff che reagisce, frazione in 14-2 con Royal Caff che replica Loyera S, i due che comandano su Onnilest accenna a spostare Ora Pronobis. Il miglio va via in 2-3 e mezzo con Royal Caff e Loyera S sempre in lotta davanti a Onnilest e Ora Pronobis. Siamo all'ingresso e in retta d'arrivo, Royal Caff alla corda, Loyera S all'esterno, poi Onnilest e Ora Pronobis con Royal Caff che per il momento si è svincolato da Loyera S. Poi Onnilest e Ora Pronobis, Royal Caff in vantaggio su Loyera S che comunque il suo inseguitore principale prova all'interno Onnilest. Nel finale Royal Caff si stacca mentre cala leggermente Loyera S e viene infilato all'interno da Onnilest per il posto d'onore. Dunque 3-2-7 l'arrivo ufficioso della quinta di Capanelle 2-32-6 sul mio cronometro per gli ultimi 2.000 metri. Quindi ipotizzabile una media intorno all'1-16 e mezzo da un capo all'altro per Royal Caff e Davide Di Stefano che hanno replicato agli attacchi del penalizzato Loyera S. e quest'ultimo nel finale leggermente calato facendosi rimontare all'interno l'appostato Onnilest e quindi 3-2-7 l'arrivo ufficioso della quinta di Capanelle.